Attenzione, a me gli occhi, a Palermo per ora fanno la gara per accreditarsi un mio eventuale sostegno. C'è stato Nino Minardo della Lega che avrebbe sostenuto in una riunione che con Cateno De Luca c'è un ottimo rapporto e che Cateno De Luca lo appoggia eventualmente come candidato alla presidenza della regione. Io cosa devo rispondere? Nino Minardo è un bravo caruso ma non avendo amministrato neanche il condominio in cui abita non potrebbe mai avere da parte mia alcun sostegno. Pur se è ben ditto un bravo caruso, veste elegante, Nino non è cosa per dire amministrare la regione siciliana.